Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, disponiamoci ad accogliere il dono di Dio, quanto il Signore anche quest'oggi intende donarci attraverso la preghiera, la liturgia. Siamo uniti come sempre nel ringraziamento e nella supplica, consci della paternità di Dio e imploranti di rendercela sempre più manifesta. Che i nostri occhi, i nostri cuori si aprano, perciò glielo chiediamo quest'oggi esplicitamente e con forza al suo amore. Lo facciamo in unione di preghiera con tutti coloro che ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione, con uno specialissimo e sempre caro saluto a tutti i carcerati, a tutti gli ammalati, gli anziani, i sofferenti. Sentiamoci uniti nel ringraziamento, nella preghiera e anche nel pentimento di tutte le colpe che abbiamo commesso. Prostriamoci dunque filialmente dinanzi a Dio, chiedendo misericordia per i nostri peccati. confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie 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 eleison. Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amo. Preghiamo. Esulti sempre il Tuo popolo, o Dio, per la rinnovata giovinezza dello Spirito, e come ora si allieta per la ritrovata dignità filiale, così attenda nella speranza il giorno glorioso della resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amo. Dagli Atti degli Apostoli In quei giorni il Sommo Sacerdote interrogò gli Apostoli dicendo Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome. Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Rispose allora Pietro insieme agli Apostoli Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come Capo e Salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. Fecero fragellare gli Apostoli e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedio, lieti di essere stati giudicati, degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Parola di Dio Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi e mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Cantate inni al Signore, o Suoi fedeli, della Sua santità celebrate il ricordo, perché la Sua collera dura un istante, la Sua bontà per tutta la vita. Alla sera, ospite, è il pianto e al mattino la gioia. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ascolta, Signore, perché mi hai risolvato. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo Io, Giovanni, vidi e udì i voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce L'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì i che dicevano A colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano Amen. E gli anziani si prostrarono in adorazione. Parola di Dio Prendiamo grazie a Dio Alleluia 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 Il mondo e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose, «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse, «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta, «Simone, figlio di Giovanni, mi ami». Gli rispose, «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse, «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta, «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse, «Mi vuoi bene?». E gli disse, «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù, «Pasci le mie pecore». «In verità, in verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse, «Seguimi». Parola del Signore. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Si è allodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, un lungo, meraviglioso Vangelo che abbiamo avuto modo di ascoltare anche nel tempo di Pasqua, quindi è la seconda volta che tra messe feriali e festive ci è proposto questo bellissimo brano nel quale si fa memoria dell'apparizione di Gesù ai discepoli. E all'interno di questo brano tanto lungo vorrei provare a condividere con voi un particolare di questo Vangelo che magari sembra ovvio ma che invece può nascondere, nasconde di fatto una possibile interpretazione che vuole di fatto arricchire la nostra riflessione spirituale. E mi sto rifacendo, sto pensando al momento in cui Gesù per tre volte chieda se l'Apostolo Pietro, San Pietro, lo ami. Conosciamo benissimo il fortissimo momento che vide infatti i due l'uno dinanzi all'altro. Gesù che disse anzitutto «Mi ami più di costoro» e Pietro rispose «Sì, ti voglio bene». Dopodiché Gesù l'abbiamo ascoltato «Pietro mi ami, ti voglio bene» e poi la terza e ultima volta «Pietro mi vuoi bene» e San Pietro disse «Sì, tu sai tutto, sai che ti voglio bene». C'è un particolare all'interno di questa serie di domande abbastanza forte. La prima domanda che Gesù pose a Pietro infatti era quella, fu quella di sapere se Pietro lo amasse più di costoro. E' chiaro che costoro sono i discepoli e quindi Gesù anzitutto chiede a Pietro e chiede a noi di riflesso perché noi dobbiamo anche sentirci da parte nostra inseriti in questo brano se l'amore per lui è superiore rispetto a quello che nutriamo nei confronti delle altre persone. C'è un amore esclusivo perché il primo comandamento è «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, l'anima e le forze». Ricordate cosa Gesù rispose a chi glielo chiedeva. E quindi c'è anzitutto una fortissima domanda che deve porci in serio discernimento perché è facile, facilissimo che l'amore alle creature si anteponga all'amore verso Dio. Ma ripeto, c'è un dettaglio in questa frase molto curioso perché pur ovviamente intendendo ciò, la parola, il pronome, costoro in verità nel greco, che è la lingua del Vangelo noi non sappiamo se è un maschile o un neutro. Questa non è una semplice riflessione teorica perché cambia l'asse della domanda. Se è un maschile allora va bene, mi ami più dei discepoli ma se fosse, e ci sono ragioni per crederlo anche, un neutro noi dobbiamo recepire questi costoro non come i discepoli ma come i pesci. Ovviamente in italiano non può suonare una traduzione simile perché costoro si riferisce a uomini ma intanto dobbiamo prendere atto che se avessimo tradotto mi ami più di ciò allora l'asse si sarebbe evidentemente spostato dalle persone alle cose. E ripeto, questa è una possibilità concreta che ci viene data con una lettura magari più profonda della parola di Dio. A noi però questa riflessione molto teorica che cosa dice? È come se il Signore facesse il nome di ognuno di noi Pietro, Giovanni, Marta come ci chiamiamo, ci chiamiamo mi ami più delle opere che compi? E anche questo è un imperativo molto sottile è una domanda molto sottile noi possiamo innamorarci molto facilmente delle nostre opere possiamo innamorarci molto facilmente dei frutti delle nostre opere che concorrono alla crescita di un orgoglio che ci allontana dall'amore puro verso Dio quindi vedete, e dico di più questo va a toccare anche il punto profondo del nostro amore nei confronti di Dio e faccio subito un esempio per farmi capire ad inizio messa siamo soliti con tutto il cuore menzionare anziani, ammalati, carcerati, persone sole ovviamente vogliamo racchiudere tutti coloro che ci seguono pregano con noi ma dov'è il pericolo? il pericolo è che le persone che non possono fare quello che vorrebbero prendiamo ad esempio gli ammalati persone che magari in gioventù o comunque nel loro attuale stato di vita nella loro età vorrebbero fare tanto magari hanno fatto tanto e si sentono persino inutili perché non possono fare quello che vorrebbero e vedete qui l'interrogativo di Gesù tocca questa dimensione siamo più innamorati di Dio o di che cosa facevamo per Dio? coloro che vivono nelle carceri, che sono carcerati vorrebbero magari pentiti per aver accolto la parola di Dio fare mille cose non le possono fare siamo più innamorati di quello che adesso il Signore ci chiede che è la conversione del cuore oppure di quello che vorremmo fare ripeto, questo si estende a tutti gli stati di vita ne ho menzionati due per menzionarli tutti le persone sole vorrebbero chissà imbastire quante relazioni per dimostrare con le opere il loro amore nei confronti di Dio ma attenzione non è quello che il Signore sta chiedendo il Signore ovviamente vuole che noi siamo felici in tutto ma ricordiamoci che se l'amore verso Dio viene prima dell'amore nei confronti delle nostre opere allora riusciremo ad ascoltare la voce di Dio che ci chiama ogni giorno a servirlo c'è un pericolo, lo ripeto, è molto sottile quanti di noi, proprio perché non possono compiere le opere che vorrebbero credono che il Signore abbia smesso di amarli o che siamo diventati, scusate il linguaggio, di serie B perché mai? è forse il Signore ingrato nei confronti di coloro che lo amano? no, perché il suo amore tutti i giorni vuole ribadirsi ai nostri occhi alle nostre orecchie e allora la domanda di Gesù a Pietro vale anche per ognuno di noi lo amiamo più di quello che facciamo? in mancanza di quello che facciamo sarebbe uguale l'amore nei confronti di Dio? in mancanza delle condizioni eventualmente buone che favoriscono magari la nostra comunione con Dio ecco, in assenza di esse, resterebbe uguale l'amore di Dio? poniamoci questa domanda pregando lo Spirito Santo perché da soli non riusciamo a vedere fino in fondo lo stato della nostra persona, della nostra anima chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci per amare Dio sopra costoro sopra tutti e tutto perché, ricordiamolo per l'ennesima volta amare Dio non toglie nulla all'amore verso il prossimo chi decide e di fatto ama Dio e lo mette al primo posto amerà senza che se ne renda conto o forse sì, a un certo punto lo farà amerà molto di più e meglio coloro che gli sono accanto e ciò di cui è circondato credere di amare con tutte le forze qualcuno mettendo Dio al secondo posto lascia il nostro amore prigioniero dei nostri limiti ma amare il Signore al primo posto spalanca degli orizzonti che i credenti sanno essere infinitamente più belli e grandi di quelli che noi potremmo produrre e che allora, ripeto per l'ultima volta lo Spirito Santo ci guidi in questo cammino e pregandolo possiamo sperimentare la dolcezza della Sua presenza Amen Fratelli e sorelle possiamo adesso alzarci e professare assieme la nostra fede con il simbolo cosiddetto degli Apostoli Io credo in Dio Padre Onnipotente creatore del cielo e della terra e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore il quale fu concepito di Spirito Santo nacque da Maria Vergine patì sotto Ponzio Pilato fu crocifisso fu crocifisso morì e fu sepolto discese agli inferi il terzo giorno risuscitò da morte salì al cielo siede alla destra di Dio Padre Onnipotente di là verrà a giudicare i vivi e i morti credo nello Spirito Santo la Santa Chiesa Cattolica la comunione dei Santi la remissione dei peccati la resurrezione della carne la vita eterna Amen Fratelli e sorelle rivolgiamo al Padre la nostra umile preghiera e invochiamo su tutti i doni del Risorto perché nasca in Dio una umanità nuova pacificata e riconciliata diciamo insieme ad ogni invocazione accogli o Padre la nostra supplica accogli o Padre la nostra supplica per la Chiesa perché configurata su Maria l'umile e fedele ancella di Dio annunci con coraggio al mondo la gioia del Risorto preghiamo accogli o Padre la nostra supplica per quanti sono stati privati del diritto al lavoro e per le loro famiglie perché non si scoraggino per il male che è stato loro arrecato e trovino persone di buona volontà che li aiutino ad affrontare le difficoltà presenti preghiamo accogli o Padre la nostra supplica per l'Università Cattolica del Sacro Cuore perché docenti e studenti alla luce del messaggio e dei principi morali cristiani sappiano impegnarsi ad affrontare e risolvere i problemi della società e della cultura preghiamo accogli o Padre la nostra supplica per la ventiseiesima giornata dei bambini vittime della violenza dello sfruttamento e della indifferenza contro la pedofilia perché i piccoli, i deboli e i vulnerabili siano amati e protetti dalla Chiesa e dalla società con la stessa predilezione del Padre e perché ogni realtà sociale, religiosa ed ecclesiale sia guarita dalle seduzioni, dagli scandali e dagli abusi che concorrono le giovani vite preghiamo accogli o Padre la nostra supplica per noi qui riuniti perché nutriti dalla parola e dall'Eucaristia possiamo crescere sempre più come comunità accogliente in cui ognuno possa ricevere i doni del risorto il perdono, la gioia e la pace preghiamo accogli o Padre la nostra supplica Padre Santo questa è la preghiera che con fiducia ti presentiamo facendoci voce anche di coloro che ancora non ti conoscono nella tua bontà accoglila purificala ed esaudiscila per Cristo nostro Signore amèm parelle perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente il Signore riceva dalle due mani questo sacrificio allora e gloria del suo nome e per Italia nostra e di tutta la sua santa chiesa accogli o Signore i doni della tua chiesa in festa E poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce, e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto è redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della Tua gloria. Santo, 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 il Signore viene l'universo. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. I cieli otto un preco giuggone, o cieli e il signore. O sanno i miei essenziali, o sanno i miei essenziali. Veramente santo sei tuo padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Mistero della fede Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco di Paola e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, i Vescovi, i Suoi collaboratori, l'Ordine Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amén. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro Signore, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e limita a noi i nostri debiti come anche noi li mettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nel nome di Gesù, con lo sguardo, offritevi il dono della pace. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono regno di partecipare alla tua prensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato. Signore, non sono regno di partecipare alla tua prensa, ma di soltanto la 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 tua prensa. Signore, non sono regno di partecipare alla tua prensa. Signore, non sono regno di partecipare alla tua prensa, ma di soltanto la 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 tua prensa. Per ospia sanga, Per i te ospia sanga. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.